Si è delineato chiaramente un Movimento 5 Stelle che ha sbancato, si può dire, addirittura ha sfiorato la vittoria al primo turno. Era un risultato che voi vi attendevate, questo plebiscito? Noi siamo molto contenti chiaramente del risultato e prima ancora della campagna che siamo riusciti a fare e che Alcamo ci ha regalato. Oggi il risultato davvero importante per noi è quello della lista. La nostra lista ha avuto un risultato davvero entusiasmante e conferma che quello che noi diciamo da tempo nei fatti è vero, cioè che bisogna presentarsi alla città con un progetto chiaro e con una sola lista questo progetto è sufficiente. È un Movimento 5 Stelle che oramai si è radicato in maniera abbastanza evidente, anche se c'erano stati dei segnali già da qualche anno da Alcamo? A Alcamo ho sempre risposto bene da quando il Movimento 5 Stelle si è presentato alle scorse regionali e alle europee. Abbiamo avuto una conferma che questa città è pronta a recepire i segnali di cambiamento. Altra evidenza che è venuta fuori è il fatto che al ballottaggio c'è il Movimento 5 Stelle e c'è invece ABC, un movimento civico. E la morte della politica qua in città? Ma non direi che la morte della politica, al più forse la rinascita della politica. È chiaramente un segnale forte per la nostra città che due movimenti siano arrivati al ballottaggio entrambi, quindi questo penso che possa essere un dato evidentemente storico che forse pochi si aspettavano all'inizio di questa campagna elettorale. Noi siamo molto contenti della campagna elettorale in generale. Sicuramente Alcamo veniva da una campagna, l'ultima campagna è stata molto difficile per le vicende che conosciamo, ma devo dire che sì, credo che sia un segnale di maturità di tutte le forze politiche.